Pronti ad entrare nello steampunk dopo la sigla? Ciao a tutti e bentornati nella mia stanza. Allora, per la rubrica Un libro in una stanza, oggi parliamo di La macchina della realtà, scritto da William Gibson e Bruce Sterling, quindi due padri fondatori del movimento cyberpunk. La macchina della realtà altro non è che un romanzo autoconclusivo in cui si parte dal presupposto che Charles Babbage, l'uomo che ha creato la macchina differenziale, che dal titolo originale al romanzo è riuscito a creare la prima macchina analitica, quindi ha creato il computer in piena era vittoriana. La macchina della realtà è il romanzo che ha portato il genere steampunk alle masse. è il libro che ha reso popolare nel bene o nel male il genere steampunk. Allora, di cosa parla la macchina della realtà? L'Inghilterra ha un impero enorme, domina tramite l'aviazione e carri armati, la macchina di Babbage è stata distribuita, diffusa in maniera capillare in tutto il mondo. Poi vabbè, ovviamente c'è una descrizione del mondo steampunk immaginato da Sterling e da Gibson. Basti pensare che a Manhattan governa, per capirsi, Karl Marx, la Germania è frammentata, lord Byron tramite una sua compagnia è il vero padrone, tra virgolette, dell'Inghilterra, la compagnia si chiama Radical Industrial Party e questo è il mondo. Ovviamente, come tutti i romanzi vittoriani, il protagonista è Oliphant, Lawrence Oliphant, dei servizi segreti britannici, quindi qui si riaffonda il club di Ogene, eccetera, eccetera, eccetera. Oliphant viene incaricato di scoprire, intanto Francesco di là è esaltato da un qualche filmino Disney, non fermo neanche perché mi fa troppo ridere, Oliphant è incaricato di recuperare una serie di schede perforate, schede forate, scusate, no, perforate, schede forate, su cui c'è un programma per fare delle scommesse, tra virgolette, sicure. Qui è buffo perché ovviamente non c'è il recuperare flop, chiavette, ricordanti, eccetera, eccetera, ma ci sono le schede forate, però il vizio degli inglesi di giocare e di scommettere qui è ben portato, quindi ci sono le scommesse sicure, ma in realtà ci sono dei file, che qui vengono chiamati in un altro modo, ma ora mi sfugge, dove ci sono una serie di prove per risolvere dei teoremi matematici importanti, su cui la Ada Lovelace sta praticamente per fare una conferenza in Francia. Allora, è un libro geniale, cioè vedere come i due padri del cyberpunk sono riusciti a portare tutto il concetto del transumanesimo, di cyberpunk, dell'alienazione dell'individuo, della macchina, portarla di peso. Tu, in un genere che aveva già un padre, perché questo è il mio modesto modo di pensare, il mio modesto parere di Mio, di Baby Yoda, dell'uomo della pubblicità di Marshmallow e di Dick Dastall, di che lo steampunk avesse già un padre, e questo padre è Jules Verne. Però l'idea appunto che loro prendano tutto il concetto del cyberpunk, lo porto in un'era vittoriana per creare un romanzo steampunk moderno, è un'impresa geniale. Quindi è veramente bello. Qui sotto vi metto il link Amazon per poterlo recuperare. Meno bello è il finale. Spoiler fra 3, 2, 1. Stoppate qui, altrimenti vi puppate il finale. Ok. Per chi ha continuato, è agghiacciante il fatto che loro gettino uno sguardo su un 1991 alternativo, su un 1991 alternativo, in cui tutto il mondo è governato da un'intelligenza artificiale e gli uomini ne sono succubi. Quindi dall'era positivista della rivoluzione industriale si va alla distopia più totale e a un futuro. Per loro il 1991 che è praticamente l'anno in cui è uscito il libro, non vorrei dire una sciocchezza, è uscito, questa è la seconda edizione italiana, è uscito appunto nel 1991, il libro in cui loro si vedono questo futuro distopico, dove il mondo è governato da un'intelligenza artificiale e noi uomini siamo succubi. Allora, cosa vi posso dire? Io amo Gibson, Sterling un po' meno perché non mi piace, non mi piace più di tanto, ma di Gibson è meraviglioso. Prima o poi porterò in un libro in una stanza anche il neuromante, o gli dedicherò un oltre Tolkien. Ora studio un po' come fare, anzi nei commenti scrivetemi cosa vorreste, se una monografia di Gibson nell'Oltre Tolkien o il neuromante qui sopra su un libro in una stanza. Fatemi sapere un po' quello che volete. Gibson io lo reputo un genio, Gibson è veramente avanti. Io mi ricordo quando l'essi il neuromante rimasi a bocca aperta. Mi piacque molto meno Mona Lisa Cyberpunk. Quello mi piacque veramente poco, ma il neuromante rimasi a bocca aperta, anche perché credo di aver visto, non vorrei far gaffe, ma subito prima di aver visto Akira e quindi rimasi veramente sconvolto. Però ecco, date una possibilità all'ottimo la macchina della realtà. Vi metto il link Amazon sotto, sapete cosa fare, mettere like, mettere dislike, abbonarvi al canale, condividere il video, ditemi qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo giovedì per i fumetti, lunedì eccetera eccetera per i video di gioco di ruolo e martedì per un altro libro della rubrica. Un libro in una stanza edizione 2022 che ci accompagnerà fino a fine anno. Ringrazio gli abbonati che rendono possibile che io spenda nei romanzi eccetera eccetera, quindi se volete dare un contributo al canale ci sono le mance che non dico mai, insomma sapete cosa fare. Ciao e alla prossima!